Nella tesa, eccoci. La pilotecnica napoletana è lieta di presentarvi un entusiasmante spettacolo dove la chimica del fuoco e la boutique del suono si fondono in un connubio di impalpabili emozioni. Fuoco e musica, musica e fuoco, arti senza tempo. Le nostre mani trasformano la polvere in magiche scintille di luce per accendere i vostri sogni, luce che splende su corpi incandescenti attraversati da un brivido intenso che sovrasta i sensi. I signori del fuoco sono tornati, il cielo non basterà. I signori del fuoco sono tornati, il cielo non basterà. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.